Book 2 62 Fare domande, 1 Imparare, studiare Gli allievi studiano molto? Gli allievi studiano molto? No, studiano poco. Chiedere Chiede spesso all'insegnante? No, non gli chiedo spesso. Rispondere Risponda, per favore. Risponda, per favore. Io rispondo. Lavorare Lui sta lavorando? Sì, sta lavorando. Venire Venire Viene? Viene? Sì, vengo subito. Sì, vengo subito. Abitare Abitare Abita a Berlino? Abita a Berlino? Sì, abito a Berlino. Sì, abito a Berlino.